Ragazzi io mi stavo facendo tranquillamente una doccia e ho visto una cosa che non avrei assolutamente voluto vedere Pensavo di averle sconfitte ieri notte dopo la lunga battaglia e invece Guardate Guardate la pietra Oh cazzo sto a tornare Attacca attacca Guardate che sto a tornare tutte le veste Aiutate